Tutto ebbe inizio la notte del 18 aprile 2020. Sembrava una notte come tante, ma c'era nell'aria qualcosa di strano, qualcosa di profondamente inquietante. Grazie a tutti. Bianca! Bianca! Bianca, è ora di andare a letto. Posso fare il telefono? Mamma, un attimo. Adesso lo levo. Dai, Bianca, è ora di andare a letto. Mamma, ti ho detto un attimo, adesso lo tolgo. Mai una volta che mi dessi retta. Adesso basta. Ti ho detto mille volte che non voglio che stai a chattare al telefono così tardi. Capito? Vai, mamma. Ancora... E... 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 Grazie a tutti. Pianca! Pianca! Pianca, Pianca, sei qui? Sì, che c'è? Hai visto qualcuno? No, stavo dormendo. Credo che ci sia qualcuno in casa. Non ti spaventare, non ti spaventare. Dobbiamo chiamare la polizia. Certo. Vieni con me. Vieni. Piano. Ma chi è quest'ora? Cosa succede? Stendiamo la polizia. Non funziona. Ma cosa succede? Tu aspetta qui, vado a prendere i cellulari nello studio. Ti prego. Non ci sono. 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 Bianca 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 C'è qualcuno in casa Alla in giardino Tu resta qua, non ti muovere Mamma Bianca 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 proclaim ете man forte nam u Sì. Non ho, non ho, non ho, non ho, non ho, non ho. What the fuck? Nooooo! Pag. 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 Pag.